Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo da Mr. Bifi e siamo in compagnia del mitico Placido. Come sempre durante queste interviste la prima domanda che facciamo è un po' quella che racconta chi ho a fianco a me, come nei talk show americani. Quindi Placido, dimmi un po' in due parole chi sei. Chi sono? Si scopre volta per volta perché ogni giorno si cerca sempre di migliorare. Sono una persona che vuole migliorare il mondo della carne e trasmettere valore a tutti i consumatori di carne. Quindi partiamo proprio dalla gestione del terreno, poi l'allevamento con i pascoli, poi trasformiamo i bovini in carne e poi vendiamo la carne a tutti gli amanti della carne e quindi gli insegniamo da dove viene, come viene allevata, che tipologia è, come viene cucinata, con cosa viene cucinata e quindi comunichiamo tutto il nostro quello che sappiamo lo portiamo a disposizione di tutta la gente. E questo è Mr Beefy, dai. Io so che poi in realtà la tua storia è molto bella, nel senso che l'ho letta sul sito, poi sotto vi lascio anche i link per andare a scoprire meglio il mondo di Mr Beefy. In realtà so che Mr Beefy è nato tot di anni fa, adesso mi dirai quando, però prima non ti occupavi di Angus ma ti occupavi di altro, giusto? Certo, allora nasco sempre dal mondo dell'agricoltura, quindi mio papà aveva allevamento di vacche da latte, dopo è stato trasformato in allevamento di ingrasso e io facevo il classico allevamento italiano che è chiamato l'allevamento confinato, cioè l'allevamento in stalla e poi, sai, davanti a ogni difficoltà bisogna sempre rifarsi, trovare delle nuove iniziative e io ho avuto un problema, ho avuto un problema con l'allevamento tradizionale che avevo i capi che si ammalavano, si continuavano a ammalarsi finché arrivavano a morire. Da lì ho fatto il periodo di accannimento terapeutico, cioè ho chiamato i veterinari, ho detto salvate quello il salvabile, ho detto fate tutto quello che è possibile, quindi vaccinazioni, antibiotici, richiami, quindi tutto quello che comporta, però non trovavo nessun risultato e allora ho scritto un'email. Esatto, questo secondo me è importante perché... quando non si fa, non si sa cosa si fa, cosa si può fare, cosa si può migliorare, si cerca aiuto, io ho cercato aiuto scrivendo, ma una semplice email, quando sei preso dalla disperazione, sai che... salvati cosa faccio! E io ho detto, io faccio un po' l'ignorante, ho detto io scrivo a chi ne sa qualcosa e ho scritto a Tempo e Grandi. Tempo e Grandi ha scritto parecchi libri, tantissimi libri sul benessere animale, lei è un illuminare sul benessere animale, e gli ho scritto chiedendogli aiuto. Lei è dell'Università del Colorado, insomma dopo una serie di telefonate, mi ha detto bisogna incontrarsi e approfondire. e ho detto va bene. Tu là o lei qua? Io là. Tu là. Aveva un anno e mezzo di tempo di attesa per appuntamento, quindi mi fa guarda, parla con il mio braccio destro e fissa l'appuntamento. Un anno e mezzo, chiudo io un anno e mezzo. E mi ha detto ma se vuoi è libera in un break lunch, il 31 maggio era, il 31 maggio a mezzogiorno lei ha un paio di ore libere. Arrivo, novembre ho detto, da novembre a maggio ho detto ce la faccio. E allora siamo partiti, siamo andati là e lì è stata bellissima. La svolta, nel senso la svolta è continua, ma però è quella scintilla che poi ti porta al cambiamento. Una donna straordinaria, cioè trasmette un'energia pazzesca e succo del discorso. Qual è il mio problema? Gli animali sono stressati, i tuoi animali sono stressati. Io ho detto come sono stressati, tu puoi fare qualsiasi medicina o qualsiasi… Come noi alla fine, quando lavoriamo troppo poi dopo… Dopo ci stressiamo, quando siamo stressati ci ammaliamo e da lì parte tutto. E mi fa sono stressati, quindi ho detto niente sono venuto a casa, ovviamente tempi di riflessione. E ho detto qua devo cambiare tutto. Cioè proprio quando si dice montare la pagina. Esatto, allora ho eliminato gli altri animali, nel senso ho ridotto i numeri e ho cercato una razza pregiata, una razza che si presta al pascolo. E ho cercato di rendere la loro vita il meno stressante possibile. Quindi monta naturale, il vitello sotto la vacca fino a 6-8 mesi, tutto il pascolo. Fanno un periodo anche in stalla e da lì ho avuto i risultati. Io raccontiamo questa cosa qua che è bellissima, la prima volta che siamo venuti qua l'anno scorso per fare il corso. Mi ricordo che a un certo punto gli è acceso la musica e il bestiame è iniziato quasi a ballare, no? E mi raccontavi che è un momento in realtà che tu fai abbastanza nella quotidianità questa cosa. Allora poi ci sono un po' dei pallini che ti cerchi di far qualcosa di diverso. Ho detto, no a dir la verità, ogni tanto che facevo degli eventi così e vedevo che i bovini rispondevano in maniera diversa alla varia, alla musica. E allora ho detto, allora vedo che certe musiche le agitano, certe le rilassano. Ho detto, c'è qualcosa. Ho detto, faccio l'impianto surround in tutto il pascolo. Sì, e ho detto, sono andato là, c'è cipre, non farò mai sapere. Tanto mi ha detto, tu non ci sei, ma comunque se hai i soldi noi te li facciamo spendere. Comunque poi invece ho optato per due casse da concerto e praticamente, non sempre, ma però una volta al giorno o dopo dipende anche dalla vicinanza e dalla lontananza da dove ho le casse, faccio ascoltare la musica. Anche sarebbe la musica a 432 hertz, che sarebbe una vibrazione che rilascia anche noi uomini, insomma. Sì, sì, le positive vibes, come direbbero in America. Comunque vedo che stanno bene. Che sia positivo o non so che il risultato avrà nella carne, però ho detto, se i miei animali stanno bene, sicuramente noi ci nutriremo di carne buona. Il risultato, posso dirti, mangiando spesso la tua carne, che effettivamente tutte le volte che la cuciniamo durante i corsi, gli eventi o che me la dai per fare i video, cioè a me mi stupisce sempre perché ha una qualità immensa. Io la posso anche maltrattare, la carne di Mr Beefy che è sempre morbida, succosa e piena di gusto. Quindi secondo me tutto questo tuo processo, tutti questi tuoi, chiaramente non ti chiederò i segreti perché sennò il castro allevatore te lo frega, però tutto questo tuo curare l'animale in tutta la sua fase di vita poi nei risultati, nella carne si ritrova. Beh guarda, i segreti li posso anche dire perché quando un allevatore impara oppure prende spunto per trattare bene i suoi animali è sempre positivo. Quindi io ho sempre detto come faccio a far riconoscere la mia carne e che gusto ha il benessere dell'animale, che gusto ha la carne non stressata. Ricordiamoci che un animale che vive sotto stress produce sostanze nocive, cortisolo e tutto quanto e sono cose che non fanno male, si ammalano e dicono come noi quando siamo sotto stress ci ammaliamo. E ho detto se l'animale non è stressato dunque produce diciamo felicità che sta bene e quindi ossitocine e ormoni della felicità, quando ci alimentiamo ci alimentiamo di cose buone. E se noi siamo ciò che mangiamo è meglio essere non stressati e felici. Assolutamente. Senti invece adesso sono curioso un po' di capire dove è nato uno dei tuoi ultimi prodotti che ha salvato noi amanti del barbecue. Quando mi hai detto faccio il tallo ho detto proprio bellissimo perché spesso noi griller ce lo facciamo a casa ma ammettiamolo è un po' una rottura. Quindi averlo lì comodo in vasetto dimmi dove ti è venuto là e raccontami un po' cosa c'è dietro il tallo perché poi noi anche ripeto utilizzando i tuoi prodotti spesso è tanta roba. Beh ovviamente allora non è che inventiamo ma prendiamo spunto. Allora noi sul mondo del barbecue abbiamo preso spunto dall'America. Già là loro lo usano parecchio. Ho visto che qua in Italia non c'è ho detto produciamolo. è importantissimo comunque la materia prima cioè il grasso è la firma sul gusto della carne cioè il succo il gusto è racchiuso nel grasso il sapore la morbidezza tiene anche la carne molto più morbida. E noi abbiamo cercato di valorizzare quello che è la qualità dell'angus che è il suo grasso e praticamente ho detto mettiamolo in un vasetto così anche se la carne non è di angus con la firma di mister biffi del tallo. E poi c'è da dire anche che l'incoraggiamento anche quando abbiamo parlato insieme. Sì ammette di aver buttato benzina sul fuoco. Stavo pensando a fare no devi farlo assolutamente vedrai che la gente impazzisce. Difatti sono contento nel senso che bisogna anche trovare dei feedback importanti nel senso tu già mi hai detto vai 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 che proviamo lo facciamo e vedrai che va. Quindi è un prodotto naturale che esalta il gusto della carne è sempre lo stesso elemento cioè arriva carne e grasso sono due elementi del bovino che si sposano benissimo. Quindi su qualsiasi tipo di carne o qualsiasi tipo di cottura il pizzico di tallo va sempre. Si diventa proprio noi spesso per noi è diventato quasi un sostituto del burro. Vuoi che prendiamo un vasetto? Eh facciamolo vedere. Come si presenta? Allora lui mi dice vieni facciamo l'intervista nello spaccio. Ragazzi poi ve lo faccio vedere facciamo un po' di riprese. Questa è una boutique non è uno spaccio quindi vi invito quando siete in zona di al di là di comprare online ma se avete occasione di passare qua a Mozzecane. Perché vedere la realtà di Mr. Beefy dal vivo vi fa capire quello che ha appena detto Placido. L'amore che mettono veramente nel lavoro che fanno. Quindi vi invito veramente a raggiungerle a venire a toccare di persona quello che è il mondo Mr. Beefy. Eccolo qua. Un'altra cosa che amo di loro è l'attenzione ai dettagli. Cioè in tutto quello che fate si vede che ci mettete il cuore dalle grafiche ai pacchetti. Cioè non è niente buttato a caso. Quindi dall'inizio dell'allevamento quindi tutto quello che hai detto nell'amore degli animali fino ad arrivare a un prodotto del genere che è veramente una cosa eccezionale. Allora poi si presenta anche un bello bianco con la sua etichetta nera. Poi noi lo facciamo tutto anche diciamo spontaneamente nel senso che quando hai un prodotto ci lavori degli anni perché la vita degli animali è lunga. E anche nel procedimento del pascolo e di tutto c'è tanto lavoro. E quindi quando lo metti in una confezione cavolo non devo rovinare in fondo proprio metterlo in un pezzo di carta o in un vasetto. Allora vuoi sempre metterlo al meglio da quando ho inventato anche le casse di legno per le lombate. Che ho detto come si fa? A me piacciono le bottiglie nella cassa di legno. Eh certo. E avevo detto è uno spunto. Anche io posso mettere la carne dentro. C'è geniale. C'è geniale. Ma quando vuoi fare qualcosa e regalare qualcosa allora dici mettiamo un bel packaging. L'occhio vuole la sua parte. Cioè ti arriva questo pacco con questa scatola di legno con dentro la lombata. Già che ti arriva la scatola sei già gasato. L'apri vedi poi la qualità che c'è dentro è tutto in discesa. Quindi è stato anche tutto un evolversi poi anche il marchio il cilindro insomma non è che l'abbiamo un po' studiato in casa in famiglia un po' dopo ovviamente si migliora sempre di più e come la cosa è se tu metti una cosa pregiata la devi mettere anche in una confezione che già la riconosci insomma. Bene senti guarda è davvero è sempre un piacere parlare con te perché viene fuori proprio la passione che metti nel lavoro quindi è sempre un gran piacere e ogni volta scopro qualcosina di nuovo su di voi che mi affascina. Noi oggi siamo qui con loro per fare un bellissimo corso tutto dedicato all'Angus. Nel prossimo video che uscirà vi farò vedere un po' un video racconto e raccoglieremo i momenti salienti di questa giornata che stiamo per vivere perché chiaramente ne proporremo anche altre per dare la possibilità a più persone possibili di venire a vivere questa esperienza qua da Mr. Beefy con noi e con tutti i ragazzi di Mr. Beefy perché credo che è una giornata che vale la pena passare insieme. Io sono contento allora tu sei contento e vedi la nostra passione a noi piace lavorare con gente che ci mette nella passione nel loro nel loro lavoro come voi te e tutto il tuo staff Paolo e Alessandro e tutti quanti. Io dico sempre io produco la carne ma è anche come viene cucinata e la passione che ci mettete voi nell'insegnare come viene come deve essere preparata per me è motivo di incoraggiamento di dire andiamo avanti che le cose che stiamo facendo sono positive e quindi bravissime anche voi è un piacere collaborare. Grazie. Ragazzi come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i canali social bbqlab1984 di seguire i canali social di Mr. Beefy perché anche loro sono belli attivi e ogni tanto postano di quelle cose da acquolina alla bocca. Vi lascio sotto in descrizione il link per il loro e-commerce e per scoprire tutto quello che riguarda il mondo Mr. Beefy e ci vediamo al prossimo video. Grazie Placcio alla prossima. Ciao. Grazie.